Walter Milanesi, due opere che rappresentano fortemente la tua arte, le senti come tali e quindi anche la tua poetica artistica ed estetica? Certo, soprattutto la mia poetica artistica. Che sarebbe la tua poetica artistica? Che cosa riguarda esattamente? Qui, questi lavori che ho presentato in questa occasione parlano del silenzio, però ultimamente sono questi i miei lavori su queste stesure. Come avviene la fase di ispirazione prima della tua produzione? Cioè da che cosa tra il nutrimento della tua ispirazione? L'importante è la natura, quello che mi circonda è la natura. Perfetto, quindi sono fortemente, hanno dei messaggi molto metaforici. Certo, certo. Perfetto, la tecnica? La tecnica è olio e poi uso delle polveri, però vabbè in questo caso perché comunque uso un po' tutte le tecniche. Posso usare l'acquarello, le gouache, qualsiasi cosa. La ringrazio molte per questo. Grazie, grazie. Grazie.